Ciao a tutti, sono Marcello Lippi, c'è una grande squadra che in questo momento sta lottando per tutti noi rischiando la vita, sono gli infermieri e adesso loro hanno bisogno del nostro aiuto, aiutiamoli donando la campagna raccolta fondi noi con gli infermieri, è la cosa più bella che possiamo fare per questi angeli, ciao a tutti. Grazie.